Stefano De Martino inviato dell'isola dei famosi 13 racconta la sua esperienza in Honduras tra dirette su Canale 5 e Nostalgia per l'Italia e il figlio Santiago. Stefano De Martino, età 28 anni, si racconta a tv sorrisi e canzoni. A iniziare dalla partecipazione nel reality show Mediaset che lo vede lavorare con 150 persone della produzione, senza staccare quasi mai. Riconosce le difficoltà del collegamento in ritardo con lo studio di Milano dove c'è Alessia Marcuzzi il mio obiettivo è riuscire a gestire questo tempo tecnico in modo tale che da casa non se ne accorgano quasi. Sul look Maraveni e gli ha consigliato di spogliarsi di più ma lui replica, il mio ruolo non me lo consente. D'altra parte dalla 500 alla 1 nudi ci sono già i naufraghi, ride, ndr. La sua giornata tipo? Si sveglia già alle 5.30, fa colazione, si allena e poi sperimenta le prove oppure segue la vita dei concorrenti durante il montaggio dei servizi per il daytime. La sera della diretta arriva alle 10 in Palapa mentre alle 14.30 va in onda, quindi cena con i ragazzi della produzione e chiacchiere fino alle 3 di notte, quando in Italia sono le 10 del mattino e arrivano gli ascolti. Nel tempo libero va a cavallo o a pesca o nei centri commerciali di Lace e Iba, la città più vicina. Come rimane in contatto con il figlio Santiago? Quasi tutti i giorni facciamo delle videochiamate. Mi racconta della scuola, oppure io mi invento dei giochi da fare a distanza, mi travesto o gli mostro animali strani come le iguane. Era così contento quando nella prima puntata dalla alla 50 ho salutato prima di gettarmi dall'elicottero.